Ciao a tutti, oggi siamo insieme a Wolf che oggi dovremmo indovinare la piattaforma del colore però stavolta siamo con le moto, non senza la moto, senza una macchina siamo con le moto stavolta, che hanno aggiunto le moto in questo capitolo 4 comunque, prima che iniziamo iscrivetevi al canale, attivate la campanina e lasciate un bel like e iscrivetevi anche al canale di Wolf che si chiama RedWolf835 e comunque, questa qua è la mappa, come vedete come vedete qua è la mappa ok eccoci eccolo Wolf era leggermente molto serio avviamo siamo pronti eccoci qua buonasera come è la mappa è pronta a perdere? no vincerò no no vincerò io, bro guardi che io sono un pro playerino solo che non so il mezzo di me guarda su ok ciao bro andate verso canale che abbiamo fatto primo bello abbiamo fatto un video sulle moto eh proprio ma mi sei ricordato ma mi sei ricordato ma mi sei diventico primi video oh dio freddo qualche volta ma non mi sono in fretta allora non è indietro perfetto siamo forti siamo no io sono forte lei è uno scazzone 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 18 vabbè vieno un'altra volta ok non lo troppo un altro come il rosso io rimarrò qui bianco bianco non lo faccio in tempo si deve prestare questa una poca ah ci ho perduto sì ma perchè c'è la safe eh perchè si restringe poi eh ma non puoi dirmi altri colori però beh un po ma tu sei un ho vinto c'è una safe non vale dunque c'è un 5 round 5 round 5 round è il primo hai avuto fortuna tutta fortuna che ha nice bro buonasera red ma se io l'ho odiato questo rosso qualunque red come iniziale il nome bro siiii 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 la seconda così easy vabbè ci sta ci sta easy la teona easy ho detto il libro potrei perdere la prossima che non ci sta fine ci giocoliere vediamo come sono forte dovevo camminare green bellissimo green verde come le moto è meglio il rosa è molto bello è molto bello che ti è iniziale il mio no vabbè allora vabbè 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 qualunque preparatemi a breve della mega serie con altri youtube nel suo canale no normale siuuu iscrivetevi in poco tempo è arrivato a tre di iscritti ah vero vabbè ce l'ho detto nell'entro sono 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 comunque red u red walls bro il mio orsario lei come è andata dietro eh come la va la dietro bene iiii ora cadi siuuu ho fatto la cucunata uuuu no bellissimo eh no lei se ne vada se ne vada ma è vero bella bella muole parca del tendeggione yellow yellow bellissimo cosi cosi si fa giù si fa giù però è un po' difficile si fa giù si fa giù non è detto difficile easy io volevo andare avanti non volevo andare avanti eh devi capire di essere bravo vede 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 che sto vincendo io questo è il mio orsario il mio orsario il mio orsario fa il rain che significa? il suo gara di fuoco ma noi sentiamo il fuoco sentiamo tutto il fuoco ma che oggi è il fuoco blu 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 c'è la prima volta che mi sbaglio ciao no la zero si scelta pure dov'è dov'è dov'è? e cade godo guarda ragazzi è venuto si fa fare questo? si fa fare questo? anzi dov'è devono sbattere fino al muro l'ultimo round ma che round? no ho perso non ci vedo seiii siamo già al quattro ok perchè siamo pari? eh perchè ha detto che stare troppo forte non poteva perdere l'ultimo round ma che cosa? ma che cosa? special event bello oh fai il re nella rosa bello bello la notte bello la notte l'ultimo round è bello ci sta l'ultimo round come ultimo round credo anche il controller io il controller ish un power dove andiamo? dove andiamo? non lo so ok fai dove andiamo.. magari giù ma non godo il controller è più Kenya volentieri well vabbè stai stai cani stai stai bombando stai ho vinto ho vinto ma come come no ditemi che ha vinto ditemi che ha vinto cioè il video più lungo della mia vita il mio video più lungo della mia vita che è mia storia non capisco come sono morto ma la mia vita la mia vita poi il video ok che dove questo ciò ciò noi ci dobbiamo presto bellissimo video ciao